Ciao da Trattoria Sportiva, sono qua per fare questo video per annunciarvi, ormai è uscito circa un'ora fa, il nuovo allenatore del Genoa. Però prima di parlare di questo volevo fare un ringraziamento a tutti i nuovi iscritti, siamo arrivati a quella soglia numero 500 che mai e poi mai noi avremmo pensato di arrivare e soprattutto ho visto anche la quantità di visualizzazioni fatte nel video precedente della sconfitta del Genoa 6 a 0 con la Fiorentina dove abbiamo più di 4.000 visualizzazioni e continuano ad aumentare, cosa che anche quella noi non avremmo mai pensato, quindi veramente un ringraziamento da parte mia, di Mario, di Rubens e di Matte. Ci dà morale e forza per continuare a divertirci insieme, sperando poi anche momenti un po' più positivi per tutte le squadre a parte la Fiorentina sia per me che per Mario. Quindi continuate a sostenerci e a iscrivervi al canale e a mettere il pollicione in su. Detto questo parliamo di Alexander Blessing che Trattoria Sportiva lo chiamerà Alexander Detoubelin. Sarà lui il nuovo allenatore del Genoa, allenatore a sorpresa perché fino a ieri i contatti sembravano dire Gattuso, Nicola, Maran, erano questi i tre nomi su cui la società stava valiando barra decidendo, ma stasera con l'arrivo anche degli americani a Genova si è deciso, immagino con Sports, di prendere Alexander Blessing. Alexander Blessing che è un ex calciatore, un attaccante da innumerevoli gol. Vi dico solo che nelle Reutenglen, che non so neanche in che lega sia, in 20 partite ha segnato un gol. Ha giocato anche in Turchia nell'Antalife Sport, una partita solo, ex Toccarda, vabbè, adesso non andiamo a guardare, ex Offenheim, 34 partite, 7 gol. Vabbè, non andiamo a vedere la sua carriera di calciatore perché lasciamo perdere, però andiamo a vedere la carriera di allenatore. Lui è stato praticamente, ha vissuto praticamente parecchi anni come allenatore dell'Ipsia nelle giovanili fino ad arrivare alla primavera, quando quella squadra come responsabile di acquisti c'era Sports, quindi Sports sicuramente conosce molto bene Blessing. Blessing che ultimamente allenava in Belgio l'Ostenda. Ostenda che l'anno scorso è arrivato ai playoff Scudetto, e infatti mi sembra che Blessing sia stato anche nominato miglior allenatore del Belgio in quell'anno, comunque ha preso qualche premio. Quest'anno invece si giocava la retrocessione perché era terzo ultimo e 4-5 partite fa ne ha prese 7 dal Royal, non mi ricordo il nome. Quindi un bel viatico, una bella speranza per il Genoa. Ma a parte questo, questa scelta di Blessing, da un certo punto di vista è coerente con l'idea della società nuova, cioè dare le redini della squadra a Sports e Sports decida quello che pensa per il bene della squadra. Non si è andati su un allenatore italiano, ma si è andato su un allenatore conosciuto dal direttore sportivo. Che sia giusto o sbagliato lo vedremo a fine anno, anche se la strada è sempre più in salita. Io, canto mio, ci posso dire avrei fatto una scelta diversa. Avrei fatto scelta diversa nel senso che avrei fatto una scelta di un allenatore come Nicola o Cosmi o Balardini e Maran nelle retrovie e avrei provato con questi due allenatori che conoscono il calcio italiano, conoscono la società, dove allenano a salvarsi. Probabilmente, qui bisognerebbe essere all'interno del Genoa, il modo di far mercato di Sports è molto diverso rispetto ai direttori sportivi italiani. Se voi vedete, in questo momento Sports non ha acquistato neanche un giocatore da un agente italiano, sia per magari cose pregresse di preziosi, sia perché sappiamo bene come funziona in Italia. Quindi, da quel punto di vista loro hanno seguito la loro linea. Una linea che io continuo, per me è sbagliata, anche perché portare un allenatore tedesco, che non sa la lingua, ad allenare un Genoa che si sta giocando la salvezza, così, facendo un incontrato tra l'altro anche di due anni, fino al 2024, mi fa sorgere qualche dubbio e pensiero. Hanno voluto fare questa scelta, non lo so, io non sono ottimista, ma vedremo. E quindi niente, quando ho saputo la notizia che Belin sarebbe stato il nuovo allenatore del Genoa, un po' di sconforto, devo dire, che mi è venuto. Nel senso, un po' di rassegnazione a ormai cadere nella cadetteria. Rassegnazione, ricordiamo che è sempre un gioco, però un po' di amarezza da una società nuova come questa che diceva, mi aspettavo forse qualcosa in più in questo momento. Però bisogna dare fiducia, non vedevamo l'ora che Preziosi si togliesse e già un bene è stato togliersi Preziosi. Quindi, è arrivato Belin, sosteniamo Belin e speriamo che, in un miracolo, se no andremo giù e amen. Però, ripeto, io sarei andato su un allenatore certo come Nicola, e poi vedere come finiva. L'unica cosa che ho guardato un attimo di Belin è che, come gioca, io ho guardato un po' di partite dello Stenda, come tavolo Stenda, ho visto che non ha proprio un modulo predefinito, perché nello Stenda ha giocato parecchie partite con 5-3-2, prendendo 7 pere. Ogni tanto gioca col 3-5-2, ma diciamo che non gioca mai con due esterni alti, cioè il famoso 4-3-3 che voleva fare Sheva, no. Adesso, vedendo un po' gli schemi, ho visto un po' di schemi che ho utilizzato nelle partite precedenti, mi sorge un dubbio. Ma Miranciuk, ma ci viene? A fare cosa? Perché lui gioca molto con le due punte. Ecco, abbiamo passato metà stagione a giocare in questo modo e le abbiamo prese da destra, manca. Andiamo a scegliere un allenatore che gioca di nuovo nello stesso modo. Va bene, va bene, ci saranno anche nuovi acquisti, a Miri dovrebbe arrivare. Però, io lascio lì, però. Niente, quindi niente, da domani comunque avremo un nuovo allenatore. Facciamoci il senso della croce. Sicuramente la partita con l'Udinese non è fondamentale, ma quasi, perché una sconfitta con l'Udinese ti taglierebbe le gambe. E niente. Ah, una cosa. Mimmo, io aspetto ancora il video di scuse ai tifosi. Non ho visto che... non ho visto tue scritte su Instagram questa settimana. Strano, perché ci fai preoccupare. Non vorrei che ti fosse successo qualcosa. Perché di solito noi siamo abituati a vedere le tue scuse quotidiane su Instagram, ma non abbiamo ancora visto niente. Magari stai trattando col Torotto. Capisco le tue difficoltà. C'è da... a tirare un po' sulla somma, perché sai, Signe ne prende undici. Te solo due e mezzo. Magari ti sei offeso. Ne vuoi di più. Niente. Quindi ci salutiamo con un bel in nuovo. E niente. Ci vediamo la prossima partita. Geno Udinese. Ricordatevi di mettere mi piace, pollicino lì su e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti.